E questo sarebbe il nuovo che avanza? Il neosegretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, se fosse vero quanto scritto dall'Espresso, sarebbe indagato per finanziamento illecito. Cambiano i segretari, ma gli affari oscuri restano sempre di casa nel Partito Democratico. Zingaretti chiarisca di chi era a disposizione lui e la Regione Lazio.